Clima con eventi estremi e concorrenza sleale, la campagna del pomodoro nella provincia di Piacenza parte piena di insidie a fotografare la situazione col diretti. Le fabbriche di trasformazione si sono aperte, ma nei campi la raccolta sta iniziando timidamente e le aspettative non sono buone. È un anno difficilissimo, ricordiamo l'anno scorso i problemi grossi di siccità, quest'anno viviamo un anno opposto, dove l'eccesso di pioggia ha condizionato i trapianti. A preoccupare sono poi le importazioni di concentrato di pomodoro dalla Cina, con una distorsione della concorrenza. Un mare di pomodoro proveniente da un paese dove le regole produttive, fitosanitarie, ambientali e etiche non sono quelle italiane ed europee. A condizionare una tempesta perfetta ci sta anche il tema delle importazioni. Vista la difficoltà sul mercato a produrre e la ridotta quantitativi di produzione c'è un aumento indiscriminato delle importazioni in Europa e fuori, quindi sui paesi extra-UE e da qui nasce l'azione forte di Coldiretti a 360 gradi a tutela degli interessi dei consumatori, ma anche dei nostri produttori, che volge a creare le condizioni perché ci sia meno disparità possibile, che sia la nostra battaglia che da sempre è sull'origine, la battaglia legata alla modifica del codice doganale, dove l'ultima trasformazione diventa sostanziale e fa diventare un prodotto italiano e non ultimo tutto il tema legato al tema della reciprocità. L'annata 2024 del pomodoro, prodotto simbolo del territorio, fa dunque conti con problematiche pesanti e in particolare con l'andamento climatico. Ha comportato un serio danno a tutta la programmazione e alle coltivazioni, le stesse quantità, perché nei mesi primaverili, quando solitamente si mette a dimora le piantine di pomodoro in campo, abbiamo avuto una piovosità pari a tutto l'anno, quindi è stata veramente una cosa straordinaria e eccessiva che a memoria d'uomo mai si era misurata e ricordata.